sta per iniziare una nuova puntata di fan di moon le feste finalmente sono passate finiscono le feste l'epifania che tutte le feste si porta via siamo arrivati al nuovo anno come è partito questo nuovo anno ma dai direi bene ha mangiato ha mangiato ho bevuto ma ho bevuto quello a noi non manca mai incredibile bene però per amici da casa a parte di questa nuova augurano continui sicuro lì per tutto 2018 bene parte questa nuova stagione chiamiamola così perché noi siamo partiti alla nuova stagione si sono 2018 finalmente siamo tra il 2018 2019 quindi non è che come tutti gli anni aspettiamo il 19 sera meglio tanto quest'anno ha fatto schifo a tutti e quella a me sinceramente non è dispiaciuto quindi poi di solito come finisce l'anno dice necrologia no quest'anno sono morti c'è tutto l'elenco tutte le celebrità le star che sono morte beh l'anno per passato ci è andata male secondo me due anni fa ancora peggio non me lo ricordo due anni fa chi è morto noi stiamo partendo con la trasmissione stiamo ricordando i morti necrologia veramente bene bene questa bevana è proprio è parte proprio così è una porta morte no dai non è vero dai porta felicità porta i dolci porta io tutte le feste però ci ha lasciato un sacco di un sacco di roba ora smaltire esatto bene allora parte da puntare fan e moon e come dicevamo ricordiamo sempre i nostri riferimenti i nostri le nostre references che sono il nostro numero che trovate in sovraimpressione ma che è il 3 3 3 3 3 3 3 8 6 9 3 e i nostri social quindi ovviamente il numero è sms whatsapp quindi è ovviamente se volete scriverci se siete performer come disse un'altra conduttrice l'anno scorso ormai se volete esprimere una vostra arte avete qualcosa da dire basta che ci chiamateci scrivete whatsapp sms oppure se avete anche un'attività e volete promuoverla o comunque anche se volete accettiamo tutto senza discriminazione oppure anche se volete proporci un evento se ne guarda abbiamo questo evento carino sarebbe venuto avere le vostre telecamere non c'è problema contattateci uno di noi verrà tutti insieme uno poi se c'è da maniera da beve se c'è da maniera da beve subito se c'è da maniera da beve subito subito stiamo lì bravo oppure ci sono i nostri riferimenti social quindi facebook e youtube mettete un like e iscrivetevi al canale se vi siete persi qualche puntata o qualche nostra news ritrovate tutti lì quindi rimanete sintonizzati mi raccomando o anche se avete partecipato con noi in trasmissione volete rivedervi e mi raccomando che per questo nuovo anno ci sono un sacco di novità quindi non ne perdete neanche una esatto abbiamo iniziato col botto e continuiamo praticamente con i botti bene i botti ci sono stati bene 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 allora non ci resta che far partire finalmente questa puntata e via e quindi sommario Natale Grazie a tutti.